Mentre a Napoli ieri si registravano zero contagi e zero decessi, il presidente Vincenzo De Luca era costretto a firmare la proroga della zona russa ad Ariano Irpino in provincia di Avellino. Si va avanti con i divieti sino a domani, 22 aprile, per consentire la distribuzione alla popolazione delle mascherine di protezione e sulle mascherine l'opposizione di centrodestra ha innescato una polemica sul logo della regione Campania fatto stampare proprio sulle mascherine. Il gruppo regionale di Forza Italia ha presentato un'interrogazione sostenendo che quel logo della regione sulle mascherine gratuite è assolutamente inopportuno, un indegno spot elettorale e la denuncia. C'è il via libera all'ospedale Covid realizzato con moduli prefabbricati in tempi record nel piazzale dell'ospedale del mare a Ponticelli. È stato presentato al presidente De Luca dal direttore generale dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, una visita che in barba alle precauzioni prescritte ha registrato un nutrito seguito di accompagnatori. Raccogliere pazienti Covid che hanno patologie cardiache, pazienti Covid che sono in dialisi, pazienti Covid che sono oncologici. È veramente una struttura di avanguardia. Non manca nulla e potrebbero subito essere attivati i 72 posti letto se ci fossero i pazienti da ricoverarvi e i medici per assisterli. Al momento sono disponibili 48 posti letto di cui 12 di terapia intensiva, 12 di subintensiva, 12 di oncoematologia e altrettanti per pazienti affetti da patologie renali o cardiache. Lunedì inizierà l'allestimento di un terzo modulo con altri 24 posti letto. Sono tramutabili in posti di terapia intensiva. Entro sei ore, ha aggiunto il manager, che precisa lo scenario rispetto a 40 giorni fa è cambiato. Oggi ci sono pazienti con patologie di base, positivi a Covid-19. Si concentreranno qua, così si evita la promiscuità negli ospedali. In vista della fase 2, Lega Ambiente ha proposto ai sindaci un pacchetto di cinque misure green, mezzi pubblici più sicuri, attraverso monitoraggi, controlli e tornelli per condigentare gli ingressi e garantire le distanze di sicurezza e prevedendo più risorse per realizzare tutto ciò. Più bici e nuove piste ciclabili nelle aree urbane, replicando ad esempio il modello vincente della bicipolitana di Pesaro e le esperienze che arrivano da diverse città del mondo. E poi, provvedendo, tra le altre misure, il rafforzamento della sharing mobility, auto soprattutto elettriche, bici e bike, scooter elettrici e monopattini, attraverso accordi con le imprese per avere più mezzi in città e più quartieri a costi molto più contenuti, invitando ancora i cittadini a rottamare l'auto e scegliendo la mobilità sostenibile e i bonus green, quindi è necessario lo sblocco di 75 milioni di euro, 1.500 a famiglia, stanziati dal Ministero dell'Ambiente per rottamare le automobili più inquinanti ed infine incentivando sempre di più lo smart working, avviando un dialogo con il governo per prevedere dei vantaggi fiscali per le aziende e i lavoratori che decidono di puntare sul lavoro agile e sul mobile management di comunità. Utopia? Ma bisogna pur cominciare. Chiudiamo con il bollettino della protezione civile regionale, ieri sono stati esaminati 2.458 tamponi, sono risultati positivi 61. Il totale complessivo in Campania dunque di persone ammalate di covid-19 sono 4.135 su 53.548 test effettuati.